Un 2019 da incorniciare per il Cilento e i suoi cittadini. Nel territorio cilentano sono stati molti gli avvenimenti degni di nota, a partire dalla politica e finire allo spettacolo. Gli eventi di spessore politico da ricordare sono principalmente due e sono avvenuti a fine anno. A novembre la visita del Premier Giuseppe Conte a Vallo della Lucania per il Manifesto del Sud, mentre a dicembre a Padula il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha fatto visita alla sede della comunità montana Vallo di Diano per presentare le zone economiche e ambientali. Come evento culturale di grande successo non possiamo non nominare la dodicesima edizione del Settembre Culturale, la rassegna che si è svolta al Castello Angioino Aragonese di Agropoli dove erano presenti varie personalità politiche, attori, attrici e scrittori acclamati come Stefano Zecchi, Kim Rossi Stewart e Roberto Maroni. Parlando di cronaca è stato un 2019 molto movimentato, tra gli avvenimenti di rilievo ricordiamo gli arresti al clan degli Zingari di Agropoli, la banda dei Bancomat che è stata sgominata e le condanne al clan Capacese legato alla droga di Umberto Rossi. Tutte azioni investigative legate all'ex capitano dei Carabinieri di Agropoli, Francesco Manna, che nel mese di settembre è stato sostituito da Fabio Lagarello. Per Cinema e Spettacolo il 2019 è stato l'anno del film Il Maestro più Margherita, pellicola diretta dal regista cilentano Gianni Petrizzo e ambientata a Cannalonga, che ha fatto incetta di premi a livello internazionale, vincendo in festival cinematografici di tutto il mondo e che ha reso orgogliosi tutti i cilentani per i riconoscimenti ottenuti.